E' entrato nel vivo il progetto scuola promosso da Confindustria Macerata in sinergia con l'ufficio scolastico provinciale. Quattro le giornate di formazione in altrettante scuole della provincia, nelle quali convoglieranno anche altri istituti. Prima tappa all'Istituto Tecnico Commerciale Geometri Corridoni di Civitanova, con l'incontro tra imprenditori e i ragazzi che all'ultimo anno di scuola secondaria puntano dritti verso quello che sarà il loro futuro. Ad accogliere i ragazzi e gli ospiti intervenuti è stata la dirigente scolastica della scuola con sede a Civitanova Marche, la professoressa Antonietta Alesiani. Noi collaboriamo come Istituto Tecnico Commerciale Geometri Corridoni con Confindustria da diversi anni, in perfetto accordo negli intenti. Gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono quelli di una maggiore autoconsapevolezza da parte dei ragazzi quando si troveranno a scegliere il loro futuro. Noi teniamo particolarmente all'educazione dei giovani e questo è un momento fondamentale, il momento che potrà fare la differenza nella qualità della vita che andranno poi a svolgere, a vivere. Per cui un'autoconsapevolezza, conoscendo il territorio, conoscendo le opportunità, conoscendo anche se stessi. Oggi sarà un percorso quello che è proprio sull'autoconsapevolezza, mi sembra essenziale. Preside, a che punto è il lavoro intrapreso tra mondo della scuola e il mondo imprenditoriale? Allora, si stanno facendo grandi passi avanti. Intanto la nostra scuola comunque partecipa pieno al progetto dell'alternanza scuola-lavoro, per cui tutti i nostri ragazzi delle quarte classi per tre settimane saranno impegnati a febbraio in aziende, scelte ad hoc, secondo le loro attitudini e il loro indirizzo di studio. Dunque, c'è uno sforzo enorme a questa integrazione. Poi posso anche dirvi che faccio parte di un gruppo di lavoro personalmente, è un gruppo di lavoro nazionale che sta lavorando anche per le scelte che dovrà fare il governo. Il governo Renzi si sta impegnando molto sull'alternanza, per cui sono reduce da una settimana a Ingolstadt con autorità tedesche, proprio per valutare di prendere il meglio del modello duale tedesco, che sta funzionando alla grande, sui livelli abbassando fortemente i livelli di disoccupazione, e portare questa buona pratica in Italia. Dunque, in queste giornate, l'obiettivo è quello di mettere in contatto l'universo giovanile e quello lavorativo, attraverso esperienze dirette, confronto sulle opportunità e sulle criticità, racconti di vita vera, come nel caso di Tonino Ciannavei, presidente dell'Associazione Calzaturieri della provincia di Macerata, nonché imprenditore, che è intervenuto partendo proprio dalla sua esperienza personale. Sì, sono sempre molto contento quando mi invitano a questi convegni, perché comunque è un modo per me per portare una testimonianza ai giovani ragazzi che in questo momento stanno studiando, ma si stanno creando le basi per il loro prossimo futuro. Quindi credo che sia importante crearle queste occasioni per far capire ai giovani ragazzi quanto sia importante questo momento, dedicarsi agli studi e non solo, perché comunque voglio dire il futuro di un ragazzo lo si costruisce non solo sopra i libri, ma magari andando fuori all'estero imparando le lingue, eccetera, eccetera. Quindi io credo che questi momenti siano molto formativi e molto interessanti per i giovani. Che cosa cerca un imprenditore oggi da chi deve entrare nel mondo del lavoro? Quali sono le qualità umane e professionali? Guardi, allora, l'imprenditore oggi cerca persone intanto serie, questo è fondamentale. Poi persone veloci, molto spigliate, attaccate all'azienda, perché comunque io porto sempre un esempio, l'azienda è spesso come una barca in mezzo al mare, e quindi bisogna essere attaccati a quella barca, vicini a tutti gli amici di viaggio, perché comunque bisogna rimanere tutti insieme. Quindi bisogna sentire l'azienda come proprio uno strumento proprio e non come lo strumento utile all'imprenditore per fare i soldi utili. Sono molte le caratteristiche che chiediamo e non sempre le troviamo, perché devo essere sincero, oggi i giovani sono un po' coccolati da certe situazioni, quindi io sarei molto contento se i giovani, con gli esseri e le occasioni che spesso si trovano di fronte e che non colgono sempre. Senta, lei rappresenta anche il mondo della calzatura, ci sono opportunità in questo momento per i ragazzi, per chi esce da una scuola professionale su questo settore? Bella domanda. Beh, è chiaro che questo è un momento molto difficile, l'industria della calzatura, come molte altre, si trova a vivere un momento economico molto, molto, veramente molto difficile. Siamo costretti a barcamenarci fra molti mercati che sono in difficoltà, da quello nazionale all'ultimo in questione, quello russo, che sta attraversando un periodo molto, molto difficile. Io non ho mai firmato contratti nella mia vita. Sono entrato nelle aziende quando ho avuto la possibilità, partendo da zero, e poi ho dimostrato nel tempo il mio valore, mettendoci le ore, mettendoci l'impegno, mettendoci la serietà e questo credo che poi nel lungo andare paga molto e quindi le opportunità si possono trovare e secondo me se uno riesce a dimostrare quello che vale poi si cresce anche nei gradi, diciamo, quindi ci sono, secondo me si possono trovare. Giornate, ognuna con un tema specifico, dalla velocità all'innovazione, dalla tenacia e talento all'atteggiamento ed ascolto dei cambiamenti. Tra i protagonisti il professor Gabriele Micozzi, docente a LUIS di Roma, esperto di marketing e formazione. Quest'anno il concetto è andiamo in scena e quindi i ragazzi insieme con noi cercheranno di ragionare sul palcoscenico che è il mondo e cercheranno di riflettere sul fatto che loro sono gli attori di questo palcoscenico e dovranno cercare di interpretare una sceneggiatura fatta da loro e fatta anche dai loro docenti. Sicuramente il palcoscenico economico in questo momento sta offrendo delle nubi preoccupanti ma chi ha l'opportunità di girare il mondo si rende conto come per territori come la provincia di Macerata dove ci sono produzioni fortemente radicate, fortemente a valore aggiunto dove abbiamo una componente importante di design è possibile intercettare la ricchezza che il mondo sta costruendo e quindi per questi giovani abbiamo opportunità da andare a conquistare. Opportunità che vanno cercate dove? Diamo qualche direzione. Sicuramente il mondo asiatico, il mondo asiatico è fortemente interessato da Made in Italy, il Nord America e quindi Stati Uniti e Canada sono mercati tradizionalmente importanti per le nostre aziende e non ci dimentichiamo che la locomotiva del nostro sviluppo è stata sempre la Germania. La grande novità dell'Orienta Giovani itinerante di quest'anno è al tempo stesso una sfida visto che si invitano i ragazzi ad andare in scena, tanto che filo conduttore degli incontri sarà il teatro, un vero e proprio laboratorio di apprendimento a cura dell'attore Francesco Facciolli. Che ci fa un attore quest'anno in questo contesto? Che ci fa un attore? L'attore è, partiamo dalla parola, attore, colui che fa azioni e quindi quello che devono fare, che sono costretti, tra virgolette, sono tenuti a fare i ragazzi per costruire il proprio futuro e fare azioni concrete. La metafora del teatro quest'anno in Orienta Giovani diventa proprio un po' il punto centrale andiamo in scena, uno a scuola si prepara come si prepara come un attore, si prepara con l'allenamento, con il copione, con la memoria per poi andare in scena. La scena è la vita che aspetta questi ragazzi e ora loro sono nel momento in cui lo spettacolo lo stanno preparando, non devono sottovalutare questo momento, per cui la formazione è importantissima, lo studio, l'approfondimento. Il teatro è ora e adesso e basta. È come nella vita, nella vita quando hai fatto qualcosa, quando hai detto qualcosa è fatta, è detta e non puoi tornare indietro, è come il teatro. Quindi usare il teatro come metafora con i ragazzi ci è sembrato interessante proprio per metterli di fronte a un qualcosa di concreto, non solo filosofie e parole. La commedia dell'arte in particolare, quindi oggi parleremo di maschere di commedia dell'arte perché è il genere teatrale che più di ogni altro ha indagato proprio la vita. Confindustria crede profondamente nella scuola. Queste le parole di Luca Petteruti, delegato del gruppo Giovani per il progetto Scuola di Confindustria, che ha gestito l'incontro insieme all'attore e al professor Micozzi. Rendere più vicini il mondo della scuola e quello del lavoro e farli collaborare è la finalità del progetto Scuola, che si pone come una palestra per gli studenti e un modo per trasmettere la propria passione ed esperienza per gli imprenditori. Prossimi appuntamenti dell'Orienta Giovani itineranti all'ITIS Divini di San Severino il 19 novembre, poi toccherà all'IS Mattei di Recanati il 2 dicembre e all'IS Ricci di Macerata il 3 dicembre. Grazie a tutti! Grazie a tutti!